Allora vorrei comunicare al mio comparto, al comparto della pesca, il settore pesca in Sicilia, siamo nelle mani di nessuno, non ci sono gli attributi per affrontare le problematiche. Ieri alla consulta regionale della pesca ci è stato riferito dal nostro rappresentante della Federazione Armatori Siciliani che l'argomento caro gasolio non era nemmeno, non era nemmeno all'ordine del giorno. Noi avevamo calendarizzato anche un nostro, come dire, dialogo, proposte, eccetera, anche per mettere un tetto massimo al prezzo del caro gasolio, che ne so, 50, 60, 70 centesimi al litro. Dopodiché tutta la differenza che la pagasse la regione o il governo, niente, siamo stati azzittiti. Aveva fatto un genno sulle problematiche del comparto pesca il sindaco Martello ed è stato subito stoppato. La regione siciliana, nella consulta regionale pesca di ieri, 14 marzo, non è stato affrontato il tema del caro gasolio. Siamo incazzati! Siamo incazzati! Siamo incazzati!